Noi abbiamo manifestato le nostre preoccupazioni per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, così come sono stati strutturati fino ad oggi, con più tipologie, ma per un'unica motivazione, che era quella del Covid. Per cui fin da subito, fin dalla fine di marzo, abbiamo chiesto, visto l'emergenza, un unico ammortizzatore che poteva sicuramente snellire le procedure, ma non tanto per l'attività dei consulenti, ma per riuscire ad avere pagamenti e procedure più snelle, quindi pagamenti più veloci da parte dell'Inps nei confronti delle aziende e dei lavoratori dipendenti in cassa integrazione. Anche a Prato i dipendenti hanno ricevuto gli ammortizzatori sociali per il mese di marzo. Adesso la situazione è un po' a singhiozzo per quanto riguarda i mesi successivi. Sì, ad oggi purtroppo il settore, diciamo quello che ha sofferto più di tutti, il settore artigiano, dove le liquidazioni dei dipendenti e la cassa integrazione soltanto in questi giorni è arrivato aprile. Per gli altri settori è leggermente meglio perché hanno già avuto quasi tutti anche le competenze del mese di maggio. Però siamo sicuramente in notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dal governo all'inizio del Covid. Ci sono disagi anche per quanto riguarda le imprese, nelle incertezze normative. Due esempi su tutti, quello delle assunzioni a tempo determinato che sono scadute, ma le aziende sono obbligate di fatto a dei prolungamenti. E poi per quanto riguarda la restituzione delle casse integrazioni anticipate dalle aziende. Sì, sicuramente per quanto riguarda le anticipazioni fatte dalle aziende, delle casse integrazioni, che non sono tantissime, purtroppo proprio per i problemi finanziari. Chiaramente le aziende più strutturate che hanno anticipato richiedono un'autorizzazione veloce per poter poi andare a compensare quanto anticipato per conto dell'Inps. L'altro aspetto è quello dei contratti a termine, che è l'ultima norma in vigore dal 18 luglio. Cambia un po' le carte in tavola per le aziende che avevano dei contratti a termine, ma fatti sicuramente soltanto per periodi determinati, che in questo momento devono essere prorogati per tutto il periodo in cui hanno usufruito della CIG. Questo sicuramente può essere comprensibile per il mantenimento del posto di lavoro, ma per l'azienda è un carico che non avevano né previsto e purtroppo in alcune situazioni non sanno come gestirlo, perché non ne hanno la necessità. Per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti, il decreto estate che dovrebbe essere varato dal Governo a giorni prevederà l'estensione fino alla fine dell'anno. Ci sono novità anche per quanto riguarda il rinnovo degli ammortizzatori sociali? Sì, col decreto estate stiamo aspettando l'uscita. È previsto una proroga del blocco licenziamenti al 31 dicembre, salvo casi particolari che prima non erano previsti, tipo la cessazione completa dell'attività, dove in quel caso è possibile derogare al blocco. E accompagnamente al blocco ci sarà una proroga della cassa integrazione di 18 settimane. Non abbiamo neanche ancora delle specifiche ben precise, ma quindi non sappiamo se riguarderà tutte le aziende o parte delle aziende. Però le prospettive sono appunto di andare in un accompagnamento degli ammortizzatori con il blocco dei licenziamenti.